L'industria farmaceutica è particolarmente sensitiva ai problemi etici. E-scape player conosce la necessità di assicurare la sicurezza e la qualità del prodotto portato ai pazienti. Come un manufatturatore per questa produzione, ImActive embracca questa missione. Concentramente dediciamo molti risorse per mantenere i nostri standard standard e lo supportano con una visione lunga termina. Questo è quello che rende il prodotto del prodotto e del cliente una parola vera e valutabile. Questo approccio ha guidato per collaborare con Siemens per molti anni. Inoltre, una parola parola genera anche la migliore risposta alle situazioni critiche che facevamo in ogni sviluppo. Uno dei progetti più recenti e successivi che abbiamo lavorato insieme con l'acquaria e l'accella Cota Lab. L'acquaria è l'acquaria solo una soluzione automaticamente per le componenti e le parti di macchina o diversi colori e valori. L'accella Cota Lab è la nuova addizione dell'accella Cota e deve avere l'attività per la formulazione e le studi di scala per ottenere i necessi di sviluppo. Per anni, l'IMA Active ha stato designato e adottato un approccio armonizzato per l'automazione, sull'attività del prodotto. In particolare, l'HMI è il punto di connessione tra la macchina e l'operatore. È un elemento strategico nel desegno del prodotto e è cruciale ancora oggi con l'incorso della tecnologie macchina. l'IMA Active Cortex Max è un sistema di supervisione con un HMI sviluppato a livello corporeale che abbia bisogno di limitare l'operatore. Significa la informazione corretta, nel momento giusto e per i propri obiettivi. Ricordando il panel CMOS WinCC Unified con funzioni nativi come HTML5 e JavaScript ci permette di mantenere il concetto del HMI. Perciò continuiamo il nostro approccio con il sistema Cortex-Lite. Un'applicazione di supervisione e contrapplicazione con un approccio effettivo costo senza semplificare la esperienza immediata e la funzione immediata di usare e la funzione sofisticata per la produzione farmacetica. Il lavoro con la CMOS è stata una esperienza positiva. Non solo per la tecnologia, ma anche perché le persone sul team sono attivate alla nostra visione e sono sensibili alle problemi specifici della città e della città. Abbiamo ricevuto tutto il supporto necessario per compilare con le requisite GMP beneficiare da una visione di compilità di 21 Part 11 e elementi integrità mandatori in una contrapplicazione farmacetica. La sinergia con l'IMA Active è traslata nel sviluppo di un sistema innovativo e sostenibile non solo dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista di relazione dell'espect. Il team Siemens immersi in un problema di clienti per comprendere le nostre necessità di IMA per evitare la visione classica e per concentrare la soluzione. Con la esperienza di Siemens e l'innovazione insieme con l'IMA Active Tecnico Team stiamo sempre cercando soluzioni che assicurano il standard di qualità per le macchine farmacetica. con il focus sul concetto di sostenibilità usando componenti con un impatto minimo di ambientale di ambientale. In CC Unified è nativo digitale con funzioni tecnologiche come gestos, zoom, e design responsivo. Questi sono aspetti che hanno permesso a IMA Active creare un'interfaccia intuitiva e moderna che annuncia l'esperienza di usare. Crediamo che due società come Siemens e l'IMA realizzano un'interfaccia non solo perché si riconoscono il status ma soprattutto quando i team condivano il compagno e l'esperienza con una visione comunale. Il risultato con Siemens dimostra che la visione e la possibilità di collaborare aumentano il successo mutuo è un'interfaccia che è un'interfaccia che è un'interfaccia